Buongiorno amici di Made in Vino, siamo sempre qui con l'amico Cristian e oggi per voi assaggiamo Contardi Castalli, azienda di Franciacorta legata al gruppo Bella Vista e oggi in particolare assaggiamo il Sartem 2008 con 12 gradi e mezzo di grado. Versiamolo, fantastico, prima a me, ottimo, e poi a te Cristian. Allora, già da come lo versi direi che ha una bellissima spuma questo vino, direi che è un bel giallo dorato con una buona consistenza, con bolle fini e persistenti. Passiamo al naso? Assolutamente sì. Ricordiamo che questo giallo dorato è anche per me, è tutto chardonnay, quindi si tende ad essere tutto chardonnay. Per il cento per cento. Sentiamo degli agrumi subito Cristian, è questa bella anche, con la mineralità spiccata, speriamo di trovarcela anche in bocca. Direi che è intenso, è abbastanza persistente il naso. Regustiamo. Buonissimo, direi, gli eviti ben dosati. Si sente proprio questa piacevolezza secco, morbido, algolgente, fine, dei sentori, dei sentori di agrumi che ritornano al naso. Merviglioso. E anche la mineralità che ti pulisce, ti fa avere mia voglia di berne ancora. Questo lo mettiamo freschissimo. Assolutamente. Sempre i classici 6, 8 gradi delle bollicine, a maggior ragione. Cosa hai voglia di mangiare? Beh, io qui avvenirei dei crostazzi e i dolci. Tipo, mi verrebbe in mente... Due massacolline. Fantacce. E dei bei, anche gambe dei rossi siciliani. Che meraviglia. Amici, vedi in vino. Cine, ciao. Ciao, ciao.